Sono partite dal rinvenimento di un pizzino nel corso di un precedente blitz le indagini che hanno portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre brindisini ritenuti affiliati alla frangia dei tuturanesi della Sacra Corona Unita. Il provvedimento restrittivo emesso dalla DDA di Lecce è stato eseguito all'alba dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi. Il pizzino era stato sequestrato a carico di uno degli odierni arrestati in occasione di una recente operazione che aveva portato all'arresto di dieci persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.